Un 64enne salernitano di cui non sono state rese note le generalità è stato fermato dalla polizia con l'accusa di essere il rapinatore seriale che dal febbraio dello scorso anno ha compiuto almeno 5 colpi nel centro della città di Salerno. Secondo le indagini svolte dagli agenti della squadra mobile, diretti dal vicequestore Tommaso Niglio, il 64enne sotto la minaccia di una pistola si faceva consegnare da anziane signore monili ed oggetti in oro per poi dileguarsi indisturbato. L'uomo, un tempo falegname, vive nell'assoluta indigenza ed è totalmente sconosciuto agli archivi della polizia. Un anno di indagini ha consentito ai poliziotti l'individuazione ed il fermo, forse, mentre il 64enne si accingeva a mettere in atto l'ennesima rapina. Secondo la polizia, l'anziano sarebbe responsabile di 5 colpi, sempre ai danni di donne anziane. Recuperata anche la pistola che l'uomo al momento del fermo aveva addosso, si tratta di una replica. Nelle prossime ore il GIP del Tribunale di Salerno dovrebbe effettuare l'udienza di convalida del fermo. No, assolutamente, una persona, come si dice tecnicamente nelle dette a lavori, immune da qualunque pregiudizio di carattere penale. E questo ha reso più complesse le indagini? Assolutamente sì, perché sono state indagini di tipo tradizionale, fatte con il cosiddetto porta a porta, con l'immagine della faccia di questa persona e naturalmente ricercarla nel tessuto cittadino, nel contesto urbano della città. Come individuavano? Individuavano le proprie vittime, la maggior parte, anzi esclusivamente ultra sessantenni, in un caso soltanto abbiamo una vittima di 55 anni, le avvicinava con una scusa e poi le minacciava con la pistola chiedendogli di dargli i monigli che avevano indosso. A casa? Indubbiamente una persona che non aveva alcun contatto fino agli ieri con la criminalità o con fatti di ordine criminale, quindi sicuramente agiva all'oscuro di tutti. Indubbiamente una persona che non aveva alcun contatto fino agli ieri con 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 ieri.